gentili gentili telespettatori buona giornata un nicola porro senza precedenti dice che marco travaglio ha ragione ma vediamo di che cosa stiamo parlando le chiusure dragoniane sono decisamente dure di fatto si tratta di un conte terzo nicola porro nella sua video rubrica la di porro proprio qui su youtube che molti di voi assolutamente guardano attacca il governo mario draghi e seppur di parere diametralmente opposto a quello di nicola porro anche marco travaglio sul fatto quotidiano sostiene proprio oggi martedì 23 febbraio nel titolo di prima pagina che stiamo assistendo al terzo governo conte porro dice che c'è continuità con l'ex presidente del consiglio non solo per quanto riguarda l'emergenza coronavirus ma anche sulla giustizia visto che sulla prescrizione marta cartabia non cambia al bono alfonso buona fede e ancora per quanto riguarda le cartelle esattoriali che sono state rinviate di 20 giorni insomma misure assolutamente in linea con il precedente governo allora abbiamo visto una continuità la continuità del governo draghi su quella di conte l'abbiamo vista già con i ministri doveva essere un governo totalmente nuovo come diceva berlusconi il governo dei migliori invece guardando le facce di questi ministri dice questi sarebbero i migliori ma qual è il curriculum di questi migliori provate andare a vedere il curriculum di luigi di maio provate ad andare a vedere il curriculum di roberto speranza provate andare a vedere il curriculum delle due ministri di forza italia provate andare a vedere il curriculum insomma di tutti e poi vi chiedete vi dovete chiedere con questo curriculum con queste esperienze che hanno avuto nella società nel lavoro hanno gestito multinazionali possono sono degli esperti perché bisogna mettere degli esperti nei vari settori no ogni di castero ogni ministero è una divisi una suddivisione del dello stato quindi se gestisci il lavoro le infrastrutture la salute devi essere un esperto un esperto un cultore di quella materia una persona che ha masticato questa materia invece trovi nei curriculum che non c'è nessuna esperienza in queste materie dove molti ci sono di molti di questi ministri e allora quel governo dei migliori realmente non è dei migliori è una continuità del governo precedente la riconferma di gigino il ministero degli esteri che non sa dove sono le capitali che litiga coi congiuntivi che di economia non sa niente che non sa mezza parola di inglese che in confronto renzi è un professore di inglese in confronto all'inglese di di maio potrebbero trovarsi insieme fare dei divertenti sketch parlandosi in inglese diventerebbe la trasmissione più vista in prima serata no di maio e renzi che si parlano in inglese shock because e così risponde luigi off maio traducendo con google insomma la continuità del governo conte la si è vista già con i ministri e poi bisogna cambiare sulla giustizia e stanno nicchiando adesso vediamo con le chiusure quello che dice il cts bisogna fare quindi diciamo che su questo aspetto conte non ascoltava il cts faceva di testa sua a volte faceva peggio a volte faceva meglio faceva di testa sua draghi dice gli scienziati scienziati insomma dai quali scienziati no quelli lì dicono così noi dobbiamo fare quello che dicono così lui evita di essere poi tacciato come una persona che ha disatteso magari qualche magistrato gli venga in mente di di chiamarlo per come testimone no come come era successo a conte allora quello che dice il cts va bene va bene va bene va bene e sulle cartelle esattoriali milioni che salvini diceva non rinviarle cancellarle sono state rinviate di 20 giorni che cosa serve il rinvio di 20 giorni assolutamente a nulla serve solo a rinviare il problema quindi c'è una discreta e importante continuità con il governo conte due è una sorta di governo conte terzo e così porro infatti dice che c'è continuità con l'ex presidente del consiglio non solo per il coronavirus ma anche per il sistema per la giustizia ieri 22 febbraio porro aveva colpito ancora una volta il governo draghi dicendo oggi una giornata di barzellette aveva anticipato nella sua zuppa ma quello che più preme è il consiglio dei ministri i nuovi protagonisti si sono infatti riuniti per discutere del nuovo dpcm in era draghi i giornali che ieri erano tutti contiani oggi tutti draghiani dicono che arriveranno subito i ristori ma io voglio proprio vedere se continuiamo con la politica delle restrizioni quanti ristori arriveranno e ancora aveva concluso senza mezzi termini se pensate che sono i ristori a cambiarvi la vita non avete capito nulla per il conduttore l'unica soluzione è la ripresa economica non draghi così come non lo era conte in realtà in realtà vi dico che ha ragione perché prima di tutto ha ragione anche salvini quando dice l'unica è vaccinare le persone per poter ricominciare a fare tutto quello che si faceva prima a non avere più nessuno stop quindi più che fare i dpcm più che fare i dpcm dovrebbero lavorare 24 ore al giorno per vaccinare le persone vaccinare comprare i vaccini da altre parti non con l'europa ma in autonomia e non ascoltare quello che dice prodi il mortadella no li compra l'europa ma li compra l'europa insomma bisogna svegliarsi come diceva salvini ieri sveglia c'è bisogno di svegliarsi di muoversi e poi i ristori guardate che conte l'aveva scelta bene la parolina ristori sapete che cos'è un ristoro il ristoro non è un risarcimento totale o parziale del danno il ristoro è un qualcosa che io ti voglio dare no tu ristori il viandante no ci guarda ti do un pezzo di pane ristorati questo è quello che ti posso dare prendere o lasciare se no andare ecco per esempio quindi il ristoro è quello che io ti voglio dare il ristoro non deve essere sufficiente insufficiente il ristoro è semplicemente perché conte l'aveva studiata bene la parolina è quello che io ti do e tu lo devi accettare se non lo accetti non lo prendere quindi il ristoro di media è un 7 per cento si è visto un 7 per cento del danno 7 per cento vuol dire che su 100 euro di mancato introito lo stato ti dà 7 euro su 100 7 euro ogni 100 cioè non ti serve neanche per comprare la carta igienica del bagno del ristorante comunque è per questo che non bisogna pensare i ristori e giustamente porro dice ma state a pensare se state ancora a pensare di storia non avete capito nulla ha ragione io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata